Dopo aver voltato pagina inizio settimana all'audace e adesso pronta a ripartire questa sera alle ore 20.45 il nuovo Cerignola di Raffaele di scena a Catania al Massimino nell'anticipo valevole per la 32esima giornata del Gironici di Serie C. Bisogna rialzarsi, finire bene il campionato e raggiungere i play-off, questo quanto sottolineato dal neo allenatore gialloblu in occasione della presentazione con la prima di queste sette finali di regular season che incombe messe da parte la rabbia per la sconfitta e la scialpa, prestazione col Monopoli Iofantini, undicesimi a quota 40 sono chiamati ad una immediata reazione soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento, fattore venuto a mancare domenica scorsa con i biancoverdi. La vittoria manca da otto giornate per le cicogne, il successo col Crotone è infatti ormai un lontano ricordo. Un momento complicato che è tale però anche per quanto riguarda il Catania di Zeoli, appaiato al 15esimo posto con 36 punti e a secco di affermazioni da ormai un mese, nonché da quel 2-0 inflitto alla Juve Stabia. Obiettivo play-off per l'audace evitare i play-out e ciò a cui punta invece la squadra rossa-azzurra dopo la conquista della finale di Coppa. Si tratterà del secondo incrocio nel calcio professionistico tra le due compagini con il Cirignola, vittorioso all'andata di misura per 1-0 grazie a Malcore. E proprio dei gol di quest'ultimo si vuol ripartire già da questa sera. Il classe 93 sarà il terminale offensivo nello scacchiere tattico di Giuseppe Raffaele che dovrebbe disegnare i suoi con il 3-4-2-1. Dopotutto la difesa 3 è stata quella che ha accompagnato la sua ex squadra, il Potenza, nel corso della passata stagione. E Bagar al contrario sulla tre quarti con tre giocatori in corsa per due maglie, ovvero Vutai, D'Andrea e Ruggero. Davanti a Krapikas terzetto che potrebbe vedere la titolarità di Vicentin, Capomaggio e Tentardini. Insegue Gonnelli. A centrocampo infine fasce presidiate da Coccia e Russo con le chiavi della mediana affidate a Bianco e Tascone. Poco tempo per preparare la sfida in terra siciliana per il neo allenatore Raffaele che ha avuto appena tre giorni a disposizione per gli allenamenti, l'agonismo, l'aggressività e l'equilibrio. Solo alcune delle sue caratteristiche, fattori che di certo non mancheranno già a partire da oggi.